buongiorno a tutti allora primi due gironi conclusi del girone a girone b con i primi verdetti del campionato nel mondo naturalmente 2018 in russia e quindi veniamo a parlare delle partite che si sono giocate ieri cioè russia uruguay e arabia saudita egitto del girone a che praticamente non semplicemente definire la prima e la seconda del girone e stessa cosa del girone b c'era iran portogallo e spagna marocco in cui l'unica squadra che ancora poteva sperare di sopravvanzare diventare seconda era la sfida tra iran e portogallo disse considerato che il portogallo aveva quattro punti l'iran 3 quindi l'ira battendo il portogallo poteva riuscire nell'impresa di eliminare appunto il portogallo e qualificarsi e vista anche il risultato della spagna addirittura come primo classificato viceversa spagna marocco ormai non aveva più nulla da dire perché il marocco era già eliminato e la spagna giocava semplicemente per il primo posto chi dava per scontato come sottoscritto 2 1 purtroppo è rimasto deluso perché l'iran addirittura ha rischiato di vincere col portogallo negli ultimi minuti e ha fatto uno a uno portogallo in vantaggio con quaresma portogallo che ha la possibilità di portarsi sul 2 a 0 con cavani e buonanotte con cr7 e beh cr7 ha sbagliato il rigore non l'ha sbagliato invece al novantesimo sulla sulla barra il giocatore ansam fard dell'iran quindi iran portogallo 1 a 1 e all'ultima occasione due minuti dal termine al novantatresimo ci ha dato sei minuti di recupero che poi sono diventati sette e mezzo l'attaccante dell'ira adesso non mi ricordo il nome si è trovato solo d'anti al portiere l'ha praticamente saltato ha tirato ma ha preso l'esterno della rete da posizione anche abbastanza favorevole sarebbe stata veramente una beffa tremenda per il portogallo vediamo a spagna marocco poi parleremo anche del gruppo a ho invertito tanto cambia poco spagna marocco è terminata 2 a 2 perché il barocco è passato prima in vantaggio con bontà bontà al quattordicesimo poi ha pareggiato isco grazie a una bella iniziativa di di est a passaggio indietro e tiro pronto di appunto isco liberato a 6 7 metri dalla porta palla sotto la traversa 1 a 1 della ripresa ed desi desiri desiri ha riportato in vantaggio al marocco 2 a 1 e al 91esimo aspas di tacco su decisione della var anche in questo caso perché sembra fuori gioco invece non l'era invece ha segnato proprio di tacco cross basso tac colpettino alla alla palacio del derby per intenderci e palla nell'angolino 2 a 2 finale e quindi spagna marocco 2 a 1 iran portogallo 1 a 1 spagna prima portogallo seconda e adesso andiamo a vedere chi affronteranno perché russi uruguay ha visto la stra vittoria dell'uruguay e quindi ha disintegrato come deve al sole la russia che come ha trovato una squadra forte proprio è stata disintegrata 3 a 0 gol di suarez ceriseve cavani al novantesimo mentre invece l'arabbia saudita dopo aver subito quasi per tutta la partita l'egitto eccetera al novantesimo beffa incredibile ha vinto 2 a 1 perché praticamente l'egitto era passato in vantaggio con sala poi sala si è mangiato un altro gol perché ha cercato uno scavetto quando non lo doveva fare occasioni eccetera poi ha pareggiato su rigore a fine primo tempo al farai e poi appunto dopo una ripresa abbastanza equilibrata eccetera al dafsari al 95esimo proprio nell'ultima occasione ha fatto vincere l'arabbia saudita era una partita che ormai naturalmente non contava più nulla però l'arabbia saudita alla fine della fiera si è tolta la soddisfazione di vincere la sua partita quindi adesso le semifinali cioè le semifinali gli ottavi per quanto riguarda questi primi due gironi saranno la russia seconda che affronterà la spagna e l'uruguay prima che affronterà il portogallo e quindi direi che alla fine della fiera alla spagna va abbastanza bene alla russia va abbastanza male e portogallo uruguay è una partita tostevole veramente perché comunque questo uruguay può veramente mettere in difficoltà un portogallo che ahimè se il signor cr7 non gira una partita loro non è che hanno tantissime armi anche se il gol di quaresma è stato molto bello però francamente ci si aspettava qualcosa di più forse sono scesi il campo un po scarichi non lo so comunque partita interessante direi che spagna favorita e portogallo uruguay è tutta da vedere vediamo le partite invece di domani domani abbiamo anzi di oggi perché oramai è già è già martedì quindi oggi alle 16 avremo danimarca francia e australia perù la classifica vede la francia a sei punti la danimarca a quattro l'australia a uno e il perù a zero ho visto le differenze reti siamo molto vicini quindi caso di sconfitta della danimarca contro la francia in caso di vittoria dell'australia col perù l'australia andrebbe a quattro e avrebbe probabilmente la differenza reti migliore potrebbe averla attenzione quindi alla alla situazione perché l'australia ha due gol fatti e tre subiti la danimarca un gol fatte due subiti se non se non ricordo male quindi se dovesse perdere potrebbe andare a due fatti e due subiti l'australia tre tre quindi differenza reti a favore e visse considerato che lo scontro diretto è finito uno a uno l'australia potrebbe addirittura passare il turno quindi o fanno un bel biscottone la danimarca è molto brava nei biscotti gli vengono molto bene o se nella francia si mette a giocare eccetera la danimarca la vedo male d'altro canto la danimarca se batte la francia diventa prima del girone potrebbe affrontare vero che qua è anche una questione di vedere la situazione perché poi teoricamente dovrebbe affrontare la croazia perché ormai è prima tranquilla cinque gol fatti zero subiti quindi dovrebbe straperdere con con l'islanda e l'argentina dovrebbe stravincere con la nigeria per non neanche perché la nigeria dovrebbe stravincere con l'argentina per raggiungere la la croazia avere la differenza reti favorevole quindi direi che la seconda del girone affronta sicuramente la croazia e quindi attenzione che la francia potrebbe pensare bene per evitare l'argentina magari di perdere con la danimarca regalare il primo posto a loro per affrontare magari a me per affrontare la croazia in questo momento non credo che sia una grande idea quindi partite tutte da vedere perché danimarca francia australia perù sono tutte partite molto ma molto ma molto cioè io giocherò al mio solito over 1 e mezzo che mi sta portando bene anche oggi l'ho preso anzi ieri quindi danimarca francia io giocherò l'uno e mezzo over 1 e mezzo australia peru over 1 e mezzo islanda croazia over 1 e mezzo e ligeria argentina over 1 e mezzo e quella è la base e poi credo che farò delle doppie danimarca francia farei 2 perché non penso che la francia voglio affrontare la croazia perché in questo momento la croazia è molto più pericolosa dell'argentina australia peru 1 via rischio l'uno perché il peru non ha nulla da chiedere però attenzione perché proprio perché non ha nulla da chiedere può darsi che magari si metta a giocare la partita lo stesso della vita per per uscire a testa alta dal girone eccetera quindi è sempre molto a rischio quindi si è un 1 molto molto arrischiato poi c'è islanda croazia che ci potrebbe stare bene un 1 x perché comunque la croazia non gli frega più di tanto di vincere questa partita potrebbe anche fare tra virgolette un biscotto e fare eliminare l'argentina mentre invece nigeria argentina io giocherei l'uno due perché il pareggio non serve a nessuna delle due perché qualora l'islanda dovesse vincere c'entra la differenza reti adesso non so come è messa la nigeria rispetto all'islanda però evitare rischi alla nigeria conviene vincere l'argentino è obbligata a vincere quindi l'uno due potrebbe essere un'idea così perché il pareggio francamente potrebbe anche non servire neanche alla nigeria perché se l'islanda vi matte la croazia c'è veramente da ridere niente io vi ho detto qualche drittina sappiamo benissimo che croazia e francia sono già qualificate le altre se la giocano quindi attenzione alle alle possibili sorprese detto questo vi saluto vi ringrazio e vediamo che se c'è zecco un'altra volta vedo ciao